Allora, permettetemi prima di iniziare eh prima di iniziare qualche ringraziamento. Ringraziamento ehm per prima di tutto i codirettori del progetto Nabi Awadi, Lotfi Belusce e Alfredo Coppa eh ma poi anche per eh tutta questa serie di colleghi e amici con cui ho condiviso, con cui abbiamo condiviso questo percorso e che sono veramente di nuovo la spina dorsale eh del gruppo. Non posso non ringraziare anche fare menzione del collega e carissimo amico Simone Mulazzani eh questo progetto eh viene da lontano, viene proprio da quella che era la eh il l'agrima scientifico che l'IMP aveva con sapienza e l'Università di Bologna e che come risultato principale ha eh portato la pubblicazione di questo sito eccezionale che è il sito Capsiano Costiero di Ergla. Eh veramente una menzione a Simone Mulazzani va fatta per il contributo eh eccezionale che ha portato nel corso della sua carriera a una migliore comprensione e definizione di questi contesti preistorici del Maghreb orientale. Grazie veramente Simone. Quali sono gli obiettivi della nostra ricerca? La comprensione delle dinamiche di neolitizzazione del Maghreb orientale, una definizione del quadro cronologico delle occupazioni neolitiche del Maghreb orientale e anche una migliore definizione di quelli che sono i tratti tecnologici della cultura materiale, la definizione dei modelli economici e occupazionali, il grado di mobilità di questi gruppi e eh non da ultimo le ricostruzioni delle possibili relazioni genetiche che legavano i gruppi nordafricani e quelli del Mediterraneo centrale. Permettetemi brevemente di fare una una piccola parentesi per contestualizzarvi meglio il contesto ambientale, geografico, eh culturale. Eh siamo all'inizio dell'Olocene eh il clima diventa improvvisamente più umido eh più favorevole e quindi permette anche un ripopolamento di quelle aree che durante il Pleistocene finale, durante soprattutto la massima glaciazione del Wurm, erano state abbandonate. Ok? È nell'ambito di queste eh nuove più favorevoli condizioni e climatiche che si assiste appunto allo sviluppo di diversi orizzonti culturali che sono relativi a gruppi di cacciatori raccoglitori. Questi gruppi eh di cacciatori raccoglitori sono caratterizzati da una eh diversità comportamentale molto ben definita a livello regionale eh che va messa sia in parte in relazione a quelli che sono i vari contesti ambientali ma anche a vere e proprie scelte culturali. Tra gli orizzonti culturali epipaleolitici del nord africano sicuramente il Capsiano va rappresentato eh è caratterizzato appunto si presenta nel Magreb orientale tra il Nolo e il sesto millennio e in base a quelli che erano gli studi eh fatti soprattutto sulle industrie litiche nel passato è stato diviso in due fasi Capsiano tipico e Capsiano superiore. Eh si tratta di siti Capsiano tipico eh maggiormente eh limitato alla regione di confine tra Algeria e Tunisia come vedete in alto a sinistra. Si tratta di siti che vengono eh definiti il ram diat. Sono delle scargotie, dei chiocciolai eh composti da una quantità incredibile di gusci di molluschi terrestri in manè e materia organica che viene alterata e è stata alterata e resa omogenea da processi post deposizionali. Eh si tratta di economie di predazione con lo sfruttamento specialmente di eh erbivori e specie di mammifori di grandi dimensioni di mammiferi di grande dimensioni. L'industria litica è caratterizzata da questa componente laminare su scheggia mh per l'ottenimento di strumenti di grandi dimensioni e come tecnologia di percussione appunto abbiamo una percussione ehm con percussore sia duro che tenero. Importante è anche lo sfruttamento del nuovo distrutto in queste fasi che viene utilizzato sia per la realizzazione di contenitori sia anche per la eh realizzazione della produzione di elementi di Perù. Importantissimo il lavoro del collega Lotfi Belusce fatto proprio sulla decorazione delle uova di struzzo. Passando al Capsiano superiore ehm eh passando al Capsiano superiore localizzato invece più diffuso lungo tutto l'Atlanta orientale e sugli altipiani del Maghreb centro orientale. Di nuovo abbiamo questa occupazione di siti all'aperto queste scargotie e la cosa interessante è che vediamo uno sfruttamento sempre di specie maggiormente principalmente selvatiche però con un'insistenza sui molluschi e anche sulle risorse vegetali. Dal punto di vista tecnologico un punto eh da sottolineare sicuramente è quella è quello della comparsa della eh produzione lamellare ottenuta mediante tecnica a pressione per l'ottenimento appunto di queste armature che venivano come vedete da questo esempio centrale eh manicate su dei supporti. Dal punto di vista eh delle pratiche funerarie il Capsiano superiore evidenzia anche delle grosse variabilità eh che mostrano appunto un alto grado di complessità. Vi sono sepolture individuali sia primarie che secondarie e la cosa importante è veramente questa eh capacità di ma di manipolazione dei resti umani quindi dei comportamenti eh funerari molto molto ben definiti. Qua vedete degli esempi di perforazione, tracce di possibili modellamento, addirittura un impianto dentario in osso. Queste sono eh delle ricerche fatte dalla collega Luisa Udia eh sul sito algerino di Faizu Ardue. Passiamo ai contesti di studio. Quello che su cui abbiamo lavorato principalmente eh nelle prime fasi di indagine da parte di Simone Mulazzani nel duemilatredici e nel duemilatredici e poi noi attraverso l'unica campagna di scavo che siamo riusciti a fare eh finora nel duemiladiciotto a cui è seguita poi una eh campagna di studio dei materiali nel duemiladiciannove. Eh il primo sito occupato eh o il primo sito indagato è il sito di Kefhamda. È un sito eh definito come eh Capsiano superiore che però ha delle caratteristiche particolari che evidenziano veramente degli elementi di modernità, di transizione culturale verso quello che sarà poi il neolitico. Si tratta di un riparo localizzato lungo la dorsale tunisina, vedete eh la localizzazione a sinistra, circa settecento metri sul livello del mare e circa ottanta metri, ottanta chilometri dalla costa. Ehm tra gli elementi di eh transizione vanno sicuramente eh individuati la presenza di ceramica quindi in un contesto definito epipaleolitico non produttivo però con presenza di ceramica e poi incredibilmente ma questo vedremo poi un tratto che ricorre tra diversi siti eh tunisini la presenza di ossidiana di pantelleria. La stratigrafia ha messo in evidenza dieci livelli di occupazione, tutti rappresentati da delle features che mettono in luce eh diciamo una organizzazione del sito molto molto eh ben definita, focolari, buche di palo, acciottolati, delle fossette e due datazioni a radiocarbonio, una relativa al primo livello di occupazione del sito che va tra il sette mila e il sette avanti Cristo circa e poi questa fase più avanzata tra circa seimila e cinquemila e otto a cui poi si riferiscono le prime evidenze di ceramica. L'industrialitica eh dimostra appunto la presenza di questo tipicamente capsiano superiore di lamelle prodotte mediante tecnica a pressione per la produzione di questi strumenti che vengono chiamati geometrici proprio per eh che venivano utilizzati per eh realizzare delle delle armature, delle degli strumenti eh da caccia ma anche da raccolta e poi vedete un esempio a destra della produzione ceramica che compare intorno al cinque mila novecento avanti Cristo. Per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse faunistiche e selvatiche ehm vediamo appunto che c'è un'assoluta presenza di eh animali selvatici eh ugualmente eh tra le specie vegetali abbiamo pino, quercia, eh le lenticchie però ginepro, sambuco però tutte specie vegetali eh tutte specie vegetali selvatiche e poi come eh accennavo prima questo è l'elemento che caratterizza maggiormente questi siti i capsiani una grandissima presenza di questi gasteropi, di gusti, gusci di gasteropo di terrestre. Passando all'altro sito che stiamo indagando eh dal duemilatredici, ducanet e il cutifa. Perché questa eh perché questa ehm questa rondine eh proprio perché il termine il nome ducanet e il cutifa tradotto significa la panchina delle rondini. È un sito meraviglioso eh con un in una posizione panoramica assolutamente unica e caratterizzato appunto da questi eh affioramenti rocciosi che eh creano una protezione naturale e come vedete il sito si trova su questa terrazza lunga circa due chilometri eh molto vicino all'altro sito di Kef Anda e come vedete in questa posizione rialzata che permette il completo controllo del territorio circostante. Quindi ehm non è un veramente un posto scelto a caso ma era un una localizzazione importante che permetteva ai gruppi insediati nell'area di stabilirsi e poter controllare il territorio molto facilmente. La stratigrafia eh ha messo in luce il sito scusate è stato mh indagato mh in prima battuta negli anni settanta da eh Zuglemi e poi le mh indagini sono state riprese nel duemilatredici da eh Simone Mulazzani e poi nel duemiladiciotto eh abbiamo continuato il lavoro. Eh come vedete rispetto alle datazioni di Kef Anda siamo eh un pochino più tardi abbiamo un primo livello eh questo in giallo evidenziato in giallo che fa riferimento al sesto millennio abbiamo cinquemila quattro cinquemila due avanti Cristo e poi un livello superiore eh quattromila tre quattromila due avanti Cristo. Anche in questo sito emergono molto chiaramente delle situazioni di definizione dello spazio ehm molto ben caratterizzate eh che denotano una eh delle la presenza di strutture che possono far pensare a un vero e proprio villaggio neolitico. Ma eh vediamo mi dispiace non so se questa barra in alto in parte copre eh copre i nomi però ehm qua ecco eh volevo un attimo mettere in evidenza questa presenza di queste feature particolari che sono state così brillantemente messe in luce da Francesco Genchi che è il responsabile GIS del progetto. Questa è una trincea eh che è stata scavata nel duemila eh tredici da Simone Mulazzani questa in alto è stata appena toccata e vorremmo ritornarci perché è una delle zone del villaggio che eh ha messo in luce in maniera più chiara proprio la presenza di queste strutture che potrebbero aver ospitato anche delle sovrastrutture a livello abitativo di tipo fondi di capanna. Il sito eh l'eccezionalità del sito è data non solo dalla la presenza eh diciamo di un villaggio quindi di questa eh dal carattere diciamo abitativo ma anche dalla presenza di sepolture queste sono alcune di quelle pubblicate da Zuclemi e eh anche nel nostro caso c'è stata una ripresa delle eh appunto dello scavo della zona ehm interessata dalla presenza di sepolture grazie alla eh colleghe eh Luisa Audia e eh Fatma Touge ehm che hanno appunto messo in luce eh la presenza di nuove eh sepolture che non erano state eh che non erano state individuate durante gli scavi di Zuclemi. Qua vedete la presenza anche di un eh piede e vedete ricorrono sempre eh questi gasteropodi terrestri. Eh il tipo di lavoro che eh verrà fatto e qui la responsabilità è del collega ecco direttore Alfredo Coppa eh è proprio quella di portare avanti questo studio di antropologia fisica ma con un'attenzione particolare anche ai tratti di morfologia dentale eh attraverso questo eh attraverso questo eh approccio eh che viene definito ASUDAS Arizona State University Dental Anthropology System ma anche attraverso e questo eh chiaramente è molto alla ribalta questi studi sono alla ribalta eh oggigiorno attraverso lo studio del DNA antico eh vedete in basso a sinistra i campioni che sono stati eh appunto prelevati eh dai resti umani eh nel sito di Ducane e del Cutifa e eh un'attenzione solo qualche eh piccola informazione sul fatto che eh le ossa campionate in particolare si tratta della coclea che è all'interno della rocca petrosa e qua vi ho messo un'immagine per capire eh dove siamo all'interno del eh del condotto uditivo e perché quest'osso in particolare perché eh diciamo è caratterizzato da sempre da un buon indice di conservazione del DNA e quindi eh diciamo che si tende ad utilizzare questo eh questa parte eh del dell'orecchio del condotto uditivo eh è interessante eh sottolineare un cambiamento nelle economie che emerge tra lo stato tra il livello inferiore e quello superiore di Ducane e del Cutifa come vedete abbiamo una maggiore incidenza delle faune domestiche che compaiono nel livello superiore che sono invece limitate nel livello inferiore la cosa interessante però è che dal punto di vista delle specie vegetali eh rimane esclusivamente uno sfruttamento delle risorse selvatiche non abbiamo presenza di eh orzo o frumento domestici eh in Tunisia centrale dal punto di vista eh dell'industrialitica abbiamo un cambiamento sempre tra i livelli eh superiori e quelli inferiori nei livelli eh inferiori eh abbiamo una eh maggiore incidenza delle lamelle a bordo abbattuto che venivano utilizzate proprio per creare queste armature mentre nel livello superiore tipica caratteristica del neolitico abbiamo un'incidenza di strumenti di tipo domestico tipo denticolati e intaccature eh come vedete presenza di eh anche comparsa di industria atletica levigata e poi la cosa interessante che ci apre anche un mondo su quelli che possono essere stati contatti eh non solo via terra ma anche via mare eh da parte di queste comunità qua a destra vedete eh tutta eh tutti i siti eh del magreb orientale tunisinia in parte algerini che hanno restituito siti epipaleolitici e neolitici che hanno restituito ossidiana eh a parte rari casi con presenza di ossidiana di Lipari quasi tutti presentano ossidiana di pantelleria qua eh ho mh vi ho inserito una ricostruzione di quello che doveva essere il livello del mare durante l'olocene come vedete stiamo tra sei mila e quattromila anche se alcune zone insulari come la zona di Kerkenn delle isole Kerkenn per esempio erano molto probabilmente legate alla costa pantelleria eh invece eh è anche in un periodo diciamo medio olocenico assolutamente un'isola e quindi questa è la diciamo eh evidenza la testimonianza chiara che questi gruppi dovevano spostarsi anche via mare la ceramica eh presente a Bucanet del Cutifa sia nel livello superiore che in quello inferiore anche in questo caso denota delle differenze con queste decorazioni che compaiono nei livelli superiori uno studio eccezionale che ancora in corso d'opera da parte di Giacomo a Petrullo e i Mencanzari sulla le materie sugli strumenti realizzati utilizzando le materie dure animali qua abbiamo esempi di altri siti eh perché appunto il lavoro è ancora in 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 corso però ecco una degli elementi che vengono studiati dal punto di vista attraverso un approccio olistico interdisciplinare partendo dall'analisi archeozoologica delle materie prime passando per l'analisi dei fattori post deposizionali e continuando attraverso l'analisi funzionale tecnologica il tutto supportato chiaramente da sperimentazione e quindi questo ci permette di eh veramente comprendere a trecentosessanta gradi la biografia di uno strumento dal reperimento della materia prima alla sua manifattura attraverso l'uso e eh poi l'abbandono avviandomi verso la conclusione quindi che cosa che caratteristiche ha questo neolitico tunisino che abbiamo definito la comparsa del debitaggio a pressione nell'industria litica un ruolo attivo dei gruppi capsiani nel processo di neolitizzazione che vengono pian piano acculturati lenta e progressiva introduzione delle specie domestiche lenta e progressiva questa foto a sinistra eh credo che sia particolarmente indicativa Francesco che dice ragazzi andiamoci piano perché non è la situazione del vicino oriente non è la situazione dell'Europa una sviluppo delle società pastorali a partire dal cinquemila quattrocento avanti Cristo e appunto trasformazioni evidenti anche nelle produzioni litiche da parte di questi gruppi che si adattano agli ambienti in cui vivono non esiste pacchetto neolitico dimentichiamoci eh in quasi tutto il nord Africa il concetto di pacchetto neolitico a cui invece siamo abituati per quanto riguarda il vicino oriente e l'Europa perché vi ho detto non solo Tunisia ma anche tutto tutto il nord Africa perché questa situazione è una situazione che con alcune eccezioni relative alla Valle del Nilo e relative al Magreb occidentale con il Marocco dove la presenza di un pacchetto neolitico può essere individuata in siti eh diciamo circoscritti e che denotano delle interazioni da una parte con la penisola iberica e dall'altra parte con le regioni levantine possiamo assolutamente dire che una vera e propria agricoltura eh lo sfruttamento delle risorse eh selvati eh delle risorse domestiche in Nord Africa eh il primo contesto in cui compaiono nel secondo millennio è al Tiburus quindi molto molto tardi avviandomi verso le ultime slide eh non posso non citare anche tutte le attività non solo di scavo ma che sono state condotte soprattutto nel duemiladiciannove quando non abbiamo potuto appunto scavare e anche nel duemilaventi nel duemiladiciannove in particolare l'ottenimento da parte eh di eh Mosbama Bruchi di una borsa di studio eh della SAIC eh ringrazio veramente eh la SAIC per questa eh loro generosità e e che è stata borsa di studio che è stata appunto destinata alla eh alla diciamo al processamento di quei campioni che erano stati accumulati durante la missione del duemilatredici e che erano ancora nei magazzini eh in attesa di studio. Una missione di studio dei materiali e anche un piccolo training che è stato condotto nel duemiladiciannove presso i magazzini dell'IMP di Darofman Tunisi e poi eh uno sguardo anche al futuro anche in relazione alla generosità che in questo caso il mio ente il CNR ha voluto dimostrare nei confronti eh di questo di questo progetto eh proprio qualche tempo fa eh nell'ambito dei progetti bilaterali tra CNR e eh Ministero eh della della ricerca scientifica tunisino è stato finanziato il progetto bilaterale FU Pro Mag the earliest food production in the Eastern Maghreb how when where eh diretto dal sottoscritto indegnamente e dal collega tunisino dell'ISAM di Kasserin Università di Kariwan Monder Mandi. Una grossa parte eh di questo progetto verrà destinato alla alle attività di formazione. Eh questi sono i bei sorrisi dei colleghi che verranno coinvolti prossimamente nel progetto bilaterale e in questa slide eh chiudo e vi ringrazio.